Salusa 4 maggio 2012. Non permettete a nessuno di influenzare le vostre credenze, a meno di non percepire intuitivamente, la luce nelle parole di chi vi parla. Le parole portatrici di basse vibrazioni, non risuoneranno in voi, anche se, in tempi così vicini all'ascensione, c'è gente, che intenzionalmente propaga informazioni false. Gli oscuri credettero di essersi impadroniti dell'uomo e del suo mondo per i propri fini, ma ora cercano ogni opportunità per impedire alle anime di percorrere il sentiero della luce, che le conduce verso la pienezza. Non ci riusciranno, ma ciò significa che avete ancora bisogno di usare grande cautela, per non essere abbindolati da chi spaccia paura. Chiaramente sono in corso delle trasformazioni fisiche, ma la loro portata non è pari a quella delle profezie bibliche. Vi fu un tempo in cui tali profezie avrebbero potuto avverarsi, ma con il rapido aumento del vostro livello di coscienza, le vibrazioni si sono anche se elevate, consentendo una fine dei tempi meno caotica, e noi della Federazione Galattica siamo qui per aiutarvi nel restante periodo, che precede l'ascensione. Possiamo farlo in diversi modi e, per quanto riguarda i terremoti, il flusso d'energie può essere diretto in modo tale, da minimizzarne gli effetti. La nostra missione sta arrivando al punto critico in cui dovremo entrare in azione per monitorare eventi, che stanno per ripercuotersi sulla vostra coscienza. L'immenso lavoro occorso per liberarvi dagli oscuri e dai loro servi, sta per dare ottimi risultati, con conseguenti arresti su larga scala. Occorre quindi che i nostri alleati siano pronti, e che la nostra presenza li sostenga e garantisca che tutto fili liscio. Non desideriamo che le necessarie purghe provochino panico o violenze, non appena le notizie di tali avvenimenti diventeranno di pubblico dominio. Presto o tardi, dovrete affrontare la terribile verità di come siete stati sfruttati per riempire i forzieri di coloro che, per eone di tempo, sono stati la forza motrice dietro i vostri vari governi. La portata del loro potere vi lascerà di stucco e profondamente turbati, e lo sarete ancor di più quando capirete che larga parte della popolazione era destinata a essere eliminata. Il nostro arrivo ha rimosso tale minaccia, ma la storia vi mostrerà che la vita di milioni di persone è stata, comunque, oggetto delle loro terribili trame. Il prossimo periodo sarà quanto mai frenetico, ma per fortuna avete l'ascensione su cui focalizzarvi. Siate certi che, qualunque cosa accada, il risultato sarà tutto a vostro vantaggio. Alla fine, tutto quanto appartiene alle basse vibrazioni sarà trasmutato o scomparirà dalla vostra vista e, in tal modo, la Terra sarà ritristinata e libera da qualsiasi traccia d'inquinamento. Sta per nascere una nuova Terra affinché possiate iniziare una fase novella della vostra evoluzione. Tutto sarà quanto mai tranquillizzante e impregnato della gioia e felicità, di cui tantissime persone sono state private in precedenza. La Luce si espanderà in ogni direzione, innalzando il livello di coscienza di tutte le forme di vita. L'unità si manifesterà in tanti modi e sarà riconosciuta come il collante di ogni forma di vita, la separazione sparirà e nuovamente regneranno armonia ed equilibrio. In tale ambiente, le energie oscure non hanno più posto, perché non potrebbero esistere a livelli energetici tanto elevati. Di conseguenza, carissimi, non permettete a influenze esterne di interferire nel vostro progresso verso l'ascensione. Nei tempi a venire, raggiungerete tutti i livelli pari alla coscienza cristica, quale naturale sviluppo del vostro percorso evolutivo. Al momento, siete soltanto un pallido riflesso di tali elevate vibrazioni, non di meno il vostro destino è di arrivare a questi livelli. In futuro, sarete considerati come dei veri maestri di luce e, insieme con altri, sarete i co-creatori di nuovi universi. In un certo senso, il vostro potenziale non conosce limiti e, alla fine, indosserete il mantello degli dei quali, di fatto, siete. Al momento, comunque, tutto il vostro tempo e pensieri devono essere dedicati alla preparazione per l'ascensione. Talumi cercano ancora una risposta su quanto è necessario fare a riguardo, e noi vi consigliamo di lavorare laddove potete esprimervi come amore e incondizionato. Non è certo facile con tutte le distrazioni che vi circondano, tuttavia si tratta di uno stato di essere che può essere raggiunto. Considerate gli altri come parte di voi stessi, perché siete tutti connessi e quello che grava su un'anima si ripercuote su tutte le altre. Questo significa non giudicare, e per gli umani questa è forse la parte più difficile, perché siete abituati a esprimere la vostra opinione su qualunque cosa e, talvolta, senza neanche conoscere appieno i fatti in questione. Mettetevi, invece, sempre a centro dell'energia dell'amore, e trovate delle scusanti per chi si sta ancora dibattendo nella dualità. Vivete in un bellissimo pianeta che, da per sé stesso, è un essere di elevatissima consapevolezza, distrutto per mancanza di comprensione. Madre Terra ha consentito a molti sacrifici per permettervi di evolvere, ma ora è giunto il momento di ripagarla. Apprezzando quanto ha fatto per voi e rispettando anche il suo bisogno di prepararsi all'ascensione, potete lavorare per annullare e correggere parte dei danni inferti. Certamente, vi si chiederà di partecipare alla pulizia, non appena potremo sbarcare in sicurezza sulla Terra. È un compito monumentale, ma le nostre tecnologie ci consentiranno di svolgerlo in tempo minimo. Abbiamo già ripulito l'atmosfera e, conoscendo i vostri timori a proposito delle scie chimiche, ne abbiamo ridotti gli effetti su di voi. Di fatto, già da molti anni neutralizziamo le ricadute radioattive delle esplosioni nucleari e, persino ora, dobbiamo occuparci delle radiazioni provenienti dalla centrale nucleare danneggiata in Giappone. Come già sapete, al momento stiamo impedendo il ricorso ad armi nucleari e, se del caso, le distruggeremo. Ormai non continueremo più a guardare senza intervenire, ne sarà permessa un'ulteriore, deliberata distruzione del pianeta. Le vostre autorità sono perfettamente consapevoli della nostra posizione in merito. Questi sono i primi passi verso la totale messa al bando della guerra e, credeteci, siamo perfettamente in grado di garantire che tutti i Paesi rispettino la volontà divina. La pace è ormai alle porte e il personale di tutte le unità militari mobilitate sarà impiegato altrove, con altre funzioni. I crimini di guerra saranno giudicati insieme ai crimini contro l'umanità e assolutamente nessuno la farà franca, perché noi conosciamo bene i colpevoli. Non ci saranno rappresaglie, bensì la semplice applicazione delle vostre leggi, che sono anche le leggi universali. Io sono il siriano Salusa e penso che abbiate cominciato a notare quanto il tempo stia accelerando. Questo è un sicuro segnale che le vibrazioni si stanno rapidamente elevando, nonché la garanzia, che sperimenterete l'evoluzione, che le accompagna. Grazie, Salusa. Mike Quinsey Traduzione Costanza 2003 學ba